Questo è Alessandro Strumia. Alessandro è un docente di fisica teorica dell'Università di Pisa, con un ufficio al CERN. Ha prodotto importanti ricerche sul bosone di Higgs, sul neutrino, gravità quantistica e altre cose che per me sono complesse anche solo da pronunciare. La scorsa settimana al CERN ha organizzato un workshop sulla parità di genere e lui ha deciso di partecipare portando una presentazione di 27 slide. Questa presentazione ha fatto scoppiare in questi giorni una bufera mediatica assurda e ho deciso di parlarne perché è interessante analizzare che cosa è successo. Per questo voglio partire direttamente dalla fonte e farvi un veloce riassunto del contenuto di queste slide. Inizialmente parte citando alcune delle argomentazioni portate in passato nelle precedenti edizioni di questi workshop. Molte sono le stesse che da anni sentiamo dei social justice warrior, tanto per citarne alcune è giusto implementare una discriminazione positiva, altrimenti conosciuta come quote rosa, i magici privilegi dei maschi bianchi etro, non sto scherzando c'è scritto davvero, o cavolate totali come il mainsplaining. Dopodiché mostra alcuni grafici che ha creato partendo da statistiche che dimostrano come in un sacco di altri settori non esiste un equilibrio perfetto fra i sessi, anzi molti sono a maggioranza femminile, ed è anche interessante notare come nessuna si lamenti della disparità in quelli più rischiosi e faticosi, come pompieri, carpentieri, minatori eccetera, che sono quasi in toto svolti da uomini. Espone poi un altro grafico che mostra il gender equality paradox, ovvero il fenomeno per cui nelle società in cui le donne sono più libere, ci sono molte meno donne che scelgono di laurearsi in percorsi scientifici. A proposito di questo, io penso che il femminismo moderno stia confondendo pari opportunità con identicità. Il primo è un assunto morale, pari diritti, il secondo è un assunto empirico. Le donne hanno diritto a fare il lavoro che vogliono, questo è fuori discussione, ma questo non significa che si distribuiranno in modo isomorfa gli uomini in ogni settore. Il problema è che alcune persone pensano che lasciando pari opportunità ad uomini e donne si otterranno automaticamente pari distribuzioni, ma non è così. Anzi, paradossalmente, per ottenere pari distribuzioni bisogna manipolare le pari opportunità, e le quote rosa sono esattamente questo. Smonta poi una sua collega, una certa Silvia Penati, che in passato si era lamentata del fatto che la maggioranza dei relatori nelle conferenze di fisica fossero uomini, e lui sostanzialmente risponde con un «Beh, sai com'è, se la maggioranza dei ricercatori in fisica sono uomini, è comprensibile che siano anche la maggioranza dei relatori». Poi porta una dimostrazione per cui, secondo i dati, è più facile venga assunto una donna che un uomo, a parità di quanta rilevanza hanno avuto le loro ricerche e pubblicazioni scientifiche, basandosi sulle citazioni ricevute dalle stesse. Qua porta, ad esempio, un episodio personale. Nel 2018 sembra non l'abbiano assunto nell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per favorire due sue colleghe, di cui uno è la suddetta Silvia Penati, nonostante le sue ricerche fossero dieci volte più rilevanti citate rispetto alle loro. Scusate se rido, ma l'impressione che mi ha fatto fin da subito questo Alessandro Strumi è che fosse una sorta di Sheldon Cooper reale, e questa slide me lo conferma troppo. Ecco, cosa succede a fare un torto ad un nerd? Ma andiamo avanti, perché qui c'è la slide in cui scrive una frase che tutti i giornali hanno distorto in maniera vergognosa. Alessandro scrive, in un inglese non proprio eccelso, ve lo traduco letteralmente, «La fisica è stata inventata dagli uomini, ma non è suo invito. Marie Curie è stata accolta dopo che ha mostrato le sue capacità». Io ho il senso che do questa frase, considerato il contesto, è «In passato i fisici erano tutti uomini, ma la ricerca non è un club esclusivo. Chiunque può contribuire se è in grado di farlo». E Marie Curie è un esempio di questo. Non mi spiego come si possa distorcere il senso della frase, come hanno fatto molti giornali, in «La fisica non è donna». Cioè, virgolettato pure, o «fisica roba da uomini». Io sono sinceramente convinto che un buon 80% dei giornalisti che hanno scritto di questo episodio non hanno minimamente letto le slide come stiamo facendo noi. Leggendo gli articoli è palesa questa cosa, non le hanno neanche viste. «Titolo a chiappa clic, due o tre etichette a caso, sessista, misogino e boom! Il giornalismo è servito». Esattamente come successe con il Keckistan. Vi ricordate il mio video? «Stessa identica cosa». Vabbè, andiamo avanti. Qui porto alcuni esempi di discriminazione contro gli uomini. Tipo questo progetto del MIUR per istituire sostanzialmente delle borse di studio non in base al merito, ma in base al fatto che, se sei donna, ne hai diritto. Wow. Svariati studi che, sinceramente, non ho voglia nelle competenze per giudicare. E qualche vignetta comica come questa. Ho letto diverse persone che hanno criticato il fatto che ci fossero vignette comiche nelle sue slide e a queste persone voglio chiedere «Avete visto il livello delle altre?» Rendiamoci conto che il livello delle altre presentazioni era questo. Quattro slide. Una, due, tre, quattro. Cioè, strumi al confronto è un genio. Siamo quasi alla fine. Qua ricordo alcuni casi come quello di Matt Taylor, lo scienziato accusato di sessismo per aver indossato una sobrissima camicia che raffigurava pin-up e tettone. Ricordo ancora oggi con orrore lo spettacolo raccapricciante di uno scienziato, una delle menti eccesse tra coloro i quali erano riusciti a mandare una sonda nello spazio, in lacrime, costretto a scusarsi reo di aver indossato una camicetta che non è andata giù ad una stante giornalista femminista, dopo aver subito un linciaggio mediatico e ingiusti accuse di sessismo. Camicia che, tra l'altro, forse pochi lo sanno, è stata disegnata da un'artista donna. Conclude con una riflessione sul marxismo culturale, su cui ci sarebbe tantissimo da approfondire, ma non posso far video di 30 minuti. E con la frase, la fisica non è sessista contro le donne. Nonostante ciò, la verità non importa, perché questa è una battaglia politica che viene da fuori. E poi, molti mi hanno detto, non parlare, è pericoloso. Spero di rivedervi ancora. Ah, in questo finale ha veramente esagerato a farla vittima, perché è pericoloso di cosa? Cioè, al CERN sono tutti scienziati, mica rischia di essere messo in cro... Licenziato seduto a stante, buttato fuori dall'Istituto di Fisica Nucleare, Alessandro Strumia è un sessistomo fumarazzista! È successo davvero? Galileo in confronto l'hanno trattato con i guanti, anzi l'inquisizione era garantista in confronto di questa, qua non c'è nemmeno il processo. Se dissenti dal pensiero unico e dominante, non vieni criticato, vieni giustiziato. Nell'anglosfera, soprattutto negli Stati Uniti, il mood accademico degli ultimi decenni è stato questo. Una specie di femminismo identitario e postmoderno ha preso il sopravvento sul femminismo classico, quello liberale delle suffragette per intenderci, e si è istituzionalizzato in discipline accademiche come Gender Studies. Viene chiamato femminismo postmoderno, femminismo della terza ondata, e non pretende pari opportunità, ma totalitarismo. Il fatto che ci siano donne che ottengono un qualcosa che non meritano grazie alle quote rosa è un danno per le donne stesse, e vi spiego il perché in tre semplici punti. Uno, rafforza l'idea che le donne debbano avere queste spintarelle perché, con le proprie forze e capacità, non riuscirebbero a competere con gli uomini. Due, rende per l'ennesima volta chiaro che non si va avanti per merito, ma per altri fattori da esso indipendenti. Tre, risulta fastidioso verso chi si vede scavalcato solo perché appartiene al sesso o al gruppo sbagliato, fomentando odio ed estremismi. Questo non fa altro che spaccare ulteriormente la nostra società, ma forse è proprio questo quello a cui il marxismo culturale e le nazi femministe mirano. E no, Strumia non è contro le donne o misogino. Quando parla della Curie, per esempio, dice che lei ha dimostrato le sue capacità e che non era lì per le quote rosa. Semplicemente dice che quote rosa e discriminazione positiva è diverso da parità. Anche il fatto che recentemente il premio Nobel per la fisica sia stato assegnato ad una donna conferma la tesi di Strumia, cioè che le donne non sono discriminate nel mondo scientifico. Se sono poche perché generalmente la materia interessa meno donne, ma coloro alle quali interessano non è preclusa la possibilità di arrivare a livelli di eccellenza. Soprattutto mettiamoci in testa che la scienza non è una gara. I traguardi sono della fisica, non dei fisici, siano essi uomini o donne. Strumia ha certamente voluto provocare una reazione, probabilmente anche in virtù del fatto che ritiene di aver subito una discriminazione lavorativa in passato. Quello che ci interessa però sono i dati che lui ha raccolto, il modo in cui sono stati tacciati ed etichettati come offensivi. Fateci caso, offensivi, sessisti, ma non ho visto nessuno rispondere nel merito degli argomenti. A un'accusa circostanziata e dettagliata di dati scientifici gli è stato posto un attacco di tipo sociale e umanistico. Avesse avuto ragione o torto nelle sue conclusioni e ha avuto infine ragione per la reazione che ha subito. Eliminando le slide hanno dato ragione al prof quando dice che ci sono pregiudizie e censura. Inoltre il tema del dibattito era incentrato sulla fisica e i generi. E ai dibattiti si confrontano tesi diverse, altrimenti si chiamano cori. Ricordiamoci che le opinioni possono essere sgradevoli e magari può esserlo stata anche la loro esposizione, ma come ripeto spesso qui e altrove ed è i fatti che bisogna partire. In questo caso quindi sono i dati che andrebbero contestati e fin qui nessuno sembra averlo fatto, offrendo così lo spunto a Strumia e non solo a lui di reiterare l'ipotesi di discriminazione al contrario. E non ho mai letto che il metodo scientifico presupponga un criterio di non offesa ed è davvero spiacevole che in uno dei più grandi templi della scienza nel mondo, il CERN, la sensibilità offesa di qualcuno abbia vinto su una serie di fatti e dati. Molte verità sono considerate offensive, ma questo non implica che si debba smettere di considerare le verità solo per il fatto che lo siano. Se i terrapiattisti si offendono quando gli si dice che il mondo è una sfera, dobbiamo mica smettere di dirglielo per non farli sentire offesi.